Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, siamo al decimo turno del torneo dei candidati Nepo è in testa con 6 punti e mezzo, seguito da Karuana con 5.5 e Nakamura con 4.5 Ora andiamo a vedere la partita tra Nakamura contro Alireza che praticamente tutti davano tra i favoriti del torneo e invece Alireza si ritrova ad essere in ultima posizione Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, è una cosa veramente incredibile, tutti pensavano che avrebbe sfidato Karzen Prima di andare a vedere questa partita ricordo a tutti di iscrivervi al canale, mettete mi piace a questo video grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo Ok, Nakamura aveva i pezzi bianchi e apre con 1.4 Alireza risponde con c5, la difesa siciliana sicuramente è una scelta ottima, l'ha anche giocata in altre partite del torneo purtroppo però con scarsi risultati devo dire Nakamura gioca a cavallo f3, Alireza risponde con d6 e dopo d4, pedone per d4, cavallo per d4, Alireza gioca a cavallo f6 fino a qui tutte mosse standard, Alireza attacca il pedone in e4, Nakamura lo difende con il cavallo e qui a questo punto Alireza gioca a 6 Rientriamo di nuovo ancora una volta nella Neidorf, una delle migliori risposte contro 1.4 ma è richiesta una grande conoscenza teorica per padroneggiarla e giocarla quindi al meglio ora mi è venuto il dubbio se Alireza è stato in qualche modo aiutato da Vacher Lagrav per prepararsi a questo evento perché? Perché Alireza sta giocando sempre a Neidorf e gioca sotto la bandiera francese Vacher Lagrav è francese ed è possiamo dire il miglior giocatore di Neidorf al mondo in questo momento quindi probabilmente si è preparato insieme a lui, purtroppo però non sta dando dei buoni risultati qui Nakamura risponde con alfiere e3, al giorno d'oggi questa è la mossa più giocata rientriamo nel cosiddetto attacco inglese ma dopo e5 da parte di Alireza questa anche è la risposta migliore Nakamura qui gioca cavallo f3 questa non è la linea principale solitamente il cavallo si porta in b3 per poi cercare di effettuare un attacco sul lato di re invece qui Nakamura opta per questa linea secondaria e possiamo dire che già questo è un tentativo di sorprendere l'avversario Alireza qui sceglie cavallo c6 dopo averci pensato per più di 10 minuti ed effettivamente questa non è neanche una delle risposte migliori siamo sempre in teoria qui ma questa viene giocata veramente molto poco cavallo c6 Nakamura risponde con alfiere c4 controllando la casa d5 e mettendo pressione su f7 arriva alfiere c6 per contrastare subito l'alfiere c4 e qui Nakamura gioca cavallo d5 ottima mossa questa il cavallo viene messo in una bellissima casa tra l'altro qui Nakamura sta minacciando alfiere b6 seguito da cavallo c7 dando il doppio e catturando la torre quindi ha una combinazione che risulterebbe veramente fatale per Alireza deve pensare subito a rispondere e infatti gioca torre c8 ok questa è una buona mossa l'idea appunto è quella di controllare c7 ora a questo punto una mossa come alfiere b6 non sarebbe efficace perché seguirebbe donna d7 e appunto cavallo c7 non sarebbe possibile perché seguirebbe torre per c7 e sappiamo che cavallo e alfiere valgono più della torre quindi Alireza sarebbe in vantaggio ora però Nakamura decide di catturare il cavallo in f6 e qui Alireza sorprende tutti catturando di pedone nessuno si aspettava questa cattura di pedone qui erano già state giocate delle partite in questa posizione e avevano sempre catturato di donna questa è la mossa più logica da fare il pedone in d6 tra l'altro è già difeso dall'alfiere quindi donna per f6 è una mossa tranquilla invece Alireza decide di catturare di pedone si fa doppiare i suoi pedoni e probabilmente non lo so forse stava cercando di effettuare un attacco sul lato di re ora vediamo cos'è successo Nakamura prosegue con alfiere b3 per difendere il suo alfiere dato che in c4 era in presa Alireza qui gioca cavallo e7 probabilmente per portare il cavallo in g6 per poi giocare cavallo f4 quindi un'idea per attaccare il lato di re Nakamura prosegue con l'arrocco mettendo il re al sicuro e qui Alireza decide di catturare l'alfiere in b3 Nakamura riprende con il pedone a e Alireza gioca d5 qui la posizione è davvero strana ragazzi il nero ha ancora il re al centro come vedete e non sembra avere per niente un buon sviluppo dei pezzi quindi qui tutti preferirebbero avere il bianco anche il motore chiaramente preferisce avere il bianco ma pensiamoci Nakamura praticamente non ha debolezze tutti i suoi pezzi possono giocare deve ok mettere le torri in gioco ma vogliamo mettere l'alfiere di Alireza non gioca il cavallo al momento non gioca la torre non gioca il re ancora al centro veramente una scelta molto molto discutibile fino ad ora qui Nakamura chiaramente cattura in d5 Alireza cattura di donna offrendo il cambio di donne addirittura chiaramente con il re al centro Alireza cerca di semplificare la posizione a questo punto ma Nakamura non accetta chiaramente e gioca donna e 2 decidendo di mantenere le donne sulla scacchiera ora qui Alireza prosegue con cavallo f5 cercando di attaccare l'alfiere in e3 Nakamura gioca torre d1 attaccando la donna e mettendo la torre su colonna aperta come potete vedere guadagnando anche un tempo sulla donna in d5 e Alireza qui ragazzi mi sembra veramente sottotono è uscito malissimo dall'apertura si ritrova ad avere meno tempo di Nakamura qui siamo alla sedicesima mossa Nakamura a 50 minuti Alireza a 39 minuti e tra l'altro nemmeno Alireza sembrava contento a questo punto perché scuoteva il capo quindi il ragazzo sembra veramente essere sotto pressione in questo torneo e sicuramente non sta dando il meglio di sé oserei dire questa è una partita veramente allucinante non si è capito proprio qui cosa abbia combinato qui gioca donna c6 attaccando il pedone in c2 Nakamura risponde con c4 chiaramente spingendo il pedone così il pedone è difeso dall'altro pedone e qui Alireza commette un errore giocando alfiere g7 alfiere g7 con l'idea di mettere al sicuro arroccando però appunto l'alfiere in g7 e non fa niente cioè è un pezzo molto molto passivo in questa posizione ecco quindi che Nakamura prosegue con torre d5 mossa fortissima oserei dire perché perché l'idea è quella di giocare torre d1 raddoppiare le torri prendere il pieno possesso della colonna d oppure in questo caso giocare torre c5 dopo torre c5 ad esempio donna d7 torre d1 la donna avrebbe difficoltà a difendere la torre in c8 questa è l'idea di Nakamura chiaramente Alireza continua con arrocco mettendo il real sicuro arriva appunto torre d1 e Nakamura qui a questo punto ha il controllo totale della posizione possiamo dire ha 0 debolezze tra l'altro diciamo che è l'unico che può vincere in questa posizione è appunto il bianco Alireza continua con torre 8 probabilmente per cercare di spingere il pedone in e4 attaccando il cavallo quindi cercare di mettere i pedoni su casa chiara per attivare l'alfiere Nakamura risponde con h3 effettivamente questa è una mossa molto tranquilla h3 non minaccia assolutamente niente è una mossa d'attesa possiamo dire da parte di Nakamura l'unica idea che mi viene in mente è quella di dare la casa h2 al re quindi una via di fuga per il re Alireza qui però sotto pressione non sta per niente giocando le mosse migliori gioca b5 non è granché come mossa la sua idea è sicuramente quella di giocare sul lato di donna cercando di cambiare un po' di pedoni per semplificare la posizione Nakamura risponde con c5 ora con c5 Nakamura effettivamente va a perdere quasi tutto il vantaggio che aveva però qui il bianco rimane comunque preferibile siamo alla mossa 21 Alireza si ritrova con 20 minuti quindi deve giocare 19 mosse in 20 minuti quasi un minuto per mossa praticamente mentre Nakamura ha il doppio del tempo ovvero 40 minuti quindi vediamo Alireza che è in netta difficoltà ragazzi a questo punto infatti Alireza commette un altro errore e gioca alfiere f8 mossa che non piace per niente al motore perché? perché il pedone in c5 può essere semplicemente difeso dal pedone in b4 ora qui con 19 minuti di tempo sull'orologio Alireza prova a sorprendere Nakamura giocando cavallo d4 purtroppo anche questa è un'imprecisione l'idea sembra carina ovvero Alireza vuole catturare la torre in d5 la vuole guadagnare effettivamente la può guadagnare Nakamura decide di catturare il cavallo in d4 segue donna per torre appunto ma Nakamura gioca il cavallo f5 soffermiamoci un po' in questa posizione questa è una posizione estremamente pericolosa per il nero perché? perché Nakamura chiaramente ha piani come donna g4 oppure donna h5 alfiere h6 e vuole dare direttamente scacco matto ad Alireza che come vedete ha il riscoperto perché si era fatto doppiare questi due pedoni sulla colonna f quindi qui la posizione è completamente vinta per il bianco a gioco corretto ora qui Alireza prova a giocare donna e4 con donna e4 va ad attaccare il cavallo in f5 cerca di portare la donna in difesa in qualche modo ma Nakamura appunto prosegue con donna h5 attiva la donna, difende il cavallo, minaccia alfiere h6 e qui è molto difficile difendersi per Alireza ci prova con torre d8 ma chiaramente Nakamura non accetta il cambio delle torre gioca una mossa veramente ottima come torre a1 non tanto per attaccare il piedone in a6 ma l'idea qui è quella di giocare torre a3, torre g3 e poi la partita sarebbe da abbandono e vediamo un po' il piano di Nakamura Alireza qui prosegue con torre c6 una mossa veramente incredibile non ha proprio senso questa mossa ragazzi difende il piedone in a6, difende il piedone in f6 ma l'idea di Nakamura chiaramente non era di catturare lì ma di giocare anche torre a3 piuttosto qui Alireza rimane solo con 8 minuti di tempo sull'orologio Nakamura continua chiaramente con alfiere h6 arriva re h8 cerca di difendersi in qualche modo Alireza portando il re al sicuro segue ovviamente torre a3 quindi torre g3 sta per arrivare e qui addirittura Alireza in netta difficoltà gioca una mossa a caso completamente a caso pensate che è rimasto solo con 46 secondi e questo è un errore gravissimo tra l'altro ora qui Nakamura ha scacco matto forzato in 11 mosse ma il piano è troppo semplice infatti prima gioca alfiere per f8 seguettore per f8 donna h6 cercando di giocare donna g7 scacco matto oppure donna per torre scacco matto Alireza è costretto a giocare torre g8 segue torre g3 offrendo il cambio delle torri e cercando di dare appunto nuovamente scacco matto torre per g3 pedone per g3 e qui il matto è forzato cioè scacco matto in 5 mosse forzatamente a questo punto Alireza decide di abbandonare rimanendo tra l'altro con soli due secondi di tempo sull'orologio una prestazione veramente povera da parte di Alireza oserei dire questa partita è stata a senso unico Alireza prova ancora a giocare la Neidorf ma sembra che non la sappia giocare benissimo visti i risultati ottenuti fino a qui che sono comunque risultati negativi ma probabilmente Alireza sente troppo la pressione che si era creata su di lui perché tutti si aspettavano una sfida in futuro tra Karzen e Alireza o comunque tutti dicevano che l'unico che può battere Karzen è Alireza lo stesso Karzen si aspettava una sfida contro Alireza anzi ha detto che se non vince Alireza io mi ritiro eppure Alireza al decimo turno è ultimo in classifica ragazzi quindi sicuramente non riuscirà a sfidare Karzen nel 2023 non si sa in futuro cosa succederà grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di lasciare un mi piace iscrivetevi al canale ciao e alla prossima